Dopo la sua lunga relazione con Greta e Menardo Salmo sembrerebbe essere tornato single C'era già stato un po' di tiro e molla nei mesi scorsi Tanto che mi sa che ci avevamo già fatto un altro video su questa storia Dove però tutto quanto era finito bene e comunque i due erano tornati insieme A questo giro la separazione sembrerebbe definitiva Tanto che addirittura Greta e Salmo hanno anche litigato pubblicamente Perché dopo questa separazione Salmo si è frequentato con delle amiche di Greta Inserendolo nelle sue Instagram Stories A detta di Greta per ottenere attenzioni Salmo quindi cancellato tutte quante le stories con questa ragazza Che però io ovviamente ve lo devo dire S'ho riuscita a scaricarle tutte ma è ovvio raga non ve lo devo neanche dire più ormai E quindi vi lascio tutta quanta la carrellata del listing per loro due Con tutte quante le stories complete Fatemi quindi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di tutto quanto Noi ci vediamo nel prossimo video in Linea Studio Sai che sono due queste? Sì No vedi Che bomba Dai Come si va a saccare?